L'Abruzzo è lì ormai, all'80% di cittadini immunizzati con il vaccino anti-Covid, prima e seconda dose, un risultato che soddisfa mentre è iniziata già la somministrazione delle terze dosi alle categorie previste. La ASL1 ha già iniziato peraltro a chiamare anche gli over 80 dalla giornata di domenica e sono diversi i cittadini che hanno già avuto la terza dose. C'è la possibilità di fare insieme il vaccino anti-influenzale per chi vuole e questo tipo di vaccino è senza prenotazioni negli over 60 negli hub cittadini. Siamo usi 80%, la vaccinazione va bene, abbiamo avuto un'ottima risposta da parte della popolazione grazie anche all'impegno e alla dedizione di tutti gli operatori che sono veramente in alcuni casi andati a cercare gli utenti da poter vaccinare. Quindi la situazione in Abruzzo adesso possiamo considerarla a questo momento tranquilla, però non si può abbassare la guardia. Non ci sono problematiche, le dosi ci stanno, i protocolli per vaccinare chi deve essere vaccinato ci sono e quindi proseguiremo con un curriculum ben preciso secondo tutto quello che è stato disposto dal ministero e che è stato ricevuto dalla regione Abruzzo. La nostra attenzione è rivolta a chi non è vaccinato e assolve funzioni pubbliche o a contatto con l'utenza, in qualsiasi tipo di amministrazione, sia pubblica che privata, sia sanitaria che nonna. Cioè noi non possiamo permettere che i non vaccinati regolarmente prestino il loro servizio in strutture sensibili. Intanto il reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore ha ricevuto dall'Istituto Cinematografico della Lanterna Magica una donazione di 250 libri per bimbi da 0 a 6 anni, grazie al progetto Read&Grew. Una donazione che ha visto la presenza dei vertici della Lanterna Magica, del manager dell'ASDA Ferdinando Romano e del primario di pediatria il dottor Giovanni Farello, oltre ovviamente al dottor Pierluigi Cosenza. I bambini come ho detto anche in altre occasioni non hanno risentito da un punto di vista prettamente sanitario del Covid, hanno invece risentito in modo molto importante del lockdown, del confinamento, del distanziamento sociale. Noi abbiamo fatto diversi studi, alcuni dei quali sono già stati pubblicati e mettono in evidenza come ci sia stato un aumento dei disturbi di ansia, disturbi di paura, oltre alla variazione degli stili di vita. La permanenza in ospedale non deve interrompere questo percorso di crescia del bambino, anzi va potenziato proprio in questo momento in cui il bambino si trova fuori dalle mura domestiche, fuori dalla scuola, fuori dalle sue abitudini. Quindi il libro consente di continuare e perpetuare il sogno che il bambino ha leggendo il libro.